come abbiamo detto comprare visualizzazioni comprarsi la notorietà comprarsi gli iscritti su youtube è possibile vi faccio vedere come funziona e poi dopo vi spiego il tutto guardate cosa succede guardate pieno di siti per esempio qui puoi addirittura comprare le visualizzazioni italiane 2000 visualizzazioni 9 euro e 90 2000 visualizzazioni 69 euro e 90 questo sito addirittura puoi comprare le visualizzazioni italiane o internazionali ovviamente quelle italiane ti costano di più 20.000 via 140 euro e 20.000 invece internazionali 65 mila euro cioè diciamo se non ti vuoi far sputtanare le compri italiane puoi comprarti i like sotto il video cioè il pollice in su sotto il video praticamente di youtube addirittura te le puoi comprare pure su ebay praticamente cosa fondamentale è che ti puoi comprare gli iscritti a youtube ti puoi comprare gli iscritti quello che avevo quello che vi ho fatto vedere non è illegale si può tranquillamente comprarsi iscritti si può tranquillamente comprarsi visualizzazioni italiane e anche stranieri ovviamente quelle italiane costano di più perché poi per non essere tra virgolette sputtanati ovviamente meglio comprarsi le visualizzazioni italiane visto che alcuni poi sono stati sputtanati cioè che se poi vai a vedere e dice ma come questo fa visualizzazione in cina fa parlando sull'italiano magari cantando solo in italiano allora si preferisce andare praticamente sulle visualizzazioni italiane mi dispiace perché ne parlò di queste cose è un buon youtuber italiano ma poi si cagò addosso e quindi tocca sempre l'ambranile detto diciamo parlare un po' di queste situazioni non è illegale non è illegale ma è chiaro che oggi molti personaggi vengono lanciati nella musica o sul tubo tramite queste situazioni che non è illegale lo ripeto ci sono i management di dietro che fanno queste situazioni pino scotto il mio amico pino scotto ha ragione quando dice che praticamente anche oggi nella musica non emerge il talento ma emergono altre situazioni esiste una mafietta una mafietta devo dare atto a mazzoli mio amico mazzoli di zodi 105 che ne ha parlato di queste cose anche se poi anche lui non ne ha parlato abbastanza in profondità e soprattutto bisogna parlare anche del fatto che non solo puoi comprare le visualizzazioni ma poi soprattutto comprarti gli iscritti gli iscritti al canale quindi mi viene da ridere quando vedo delle crescite forti di certi personaggi e subito in un botto perché oggi ve lo dico io ambranile detto è comunque uno che si esce per strada è super riconosciuto perché perché io comunque non ho mai voluto fare parte di questa situazione anche se mi hanno rotto le balle una vita e vi dico la verità è fare iscritti fare vive molto difficile soprattutto fare gli iscritti e quindi chi si avvicina oggi al mondo del tubo deve sapere che esiste questa situazione non crediate che tutto oro quello che luccica ok il perché viene fatto perché poi questa gente comunque dai vari management viene venduta in serate in discoteche in eventi e compagni varie non fanno niente di illegale si può tranquillamente comprare beer si può tranquillamente comprare iscritti si può addirittura comprare commenti random si può comprare i like sotto il video la gente deve sapere che esiste questo lo deve sapere e quindi mi viene un po da ridere quando sento delle notizie tipo milionati di iscritti milionati calma 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 be careful calma ragazzi funziona così ti puoi comprare la notorietà è un bene è un male non lo so io sono solamente una cosa che dopo che andai a radio dj feci qualche puntata lì feci dei video per loro fu chiamato comunque dalla rai mi cercarono loro feci molte puntate una decina di puntate su rai 2 virus andò molto bene se andiamo a vedere i grafici facevo anche più facevo anche più share di quando arrivava mezz'ora prima sgarbi dopo di quello arrivò un mare di offerte di manager che volevano comunque tra virgolette pompare in questa situazione il personaggio ambre detto io li ho sempre fanculati tutti perché a me non interessava cioè fare 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 questo ma anche perché non voglio mai essere ricattato cioè io quando faccio i video e li faccio adesso io dico quello che penso dietro di me non c'è nessuno dietro di me c'è l'ambrenedetto punto e basta faccio informazione sono contento di aver fatto questo video in modo tale che alcune persone magari non sapevano questa situazione gli ho aperto un po gli occhi io faccio info dietro l'ambrenedetto esiste solo l'ambrenedetto nessuno mi deve dire cosa dire cosa non dire è per questo che ho voluto rimanere fuori dal sistema ok un abbraccio a tutti i grandi youtuber che hanno deciso di rimanere puri e duri come me ok